Hai un cane di grossa taglia, vuoi adottare o acquistare un cane di piccola taglia? Accorgimenti. Sicuramente stai attenta se la differenzialità di mole è eccessiva perché possono giocare in modo importante, quindi cerca sempre di controllare i loro giochi e quando vengono troppo in sovraeccitazione, caldali. Il secondo consiglio sicuramente è farli mangiare separatamente. E il terzo, portali a passeggio perché possono andare sicuramente in competizione per il semplice fatto che a volte i cani di grossa taglia, tipo un labrador, mangia più velocemente rispetto a un chihuahua. La loro dieta è di non ti cullare che hai un cane di piccola taglia e deve fare meno attività fisica di un cane di grossa taglia, portali entrambi fuori. Quarto e ultimo consiglio, ma il tuo cane ti ha chiesto di avere un altro cane per casa? Sei sicuro che vuoi un altro cane? Seguimi perché nel prossimo video parleremo di come inserire un altro cane in casa.